Buonasera a tutti, grazie per essere qua a questo primo appuntamento all'interno della grande rassegna organizzata nell'abito del convegno Bach e l'Italia, un convegno che avrà il suo centro, il suo cuore tra il 22 e il 28 di questo mese con le sessioni e sei giorni di intensi lavori musicali e musicologici, ma che abbiamo voluto creare attorno a questo una cornice di concerti, di eventi culturali, tutto a cosa che avremmo certo desiderato fare in presenza, purtroppo invece ci troviamo qua dietro a uno schermo tutti, ma speriamo di trovarvi bene. Quindi a me è il compito di introdurre questa serata. Io sono Maria Borghesi e ho insieme a me c'è Chiara Bertoglio e siamo le due organizzatrici del convegno internazionale e cofondratrici di jsbach.it. Insieme a jsbach.it sono organizzatori del convegno e ci tengo a ringraziarli sin da ora, l'Istituto per i beni musicali in Piemonte e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. E inoltre ci tengo a ringraziare caramente anche il Museo Nazionale del Cinema di Torino, che ci avrebbe dovuto ospitare questa sera, purtroppo però con la situazione pandemica di tutti noi sappiamo, siamo costretti a stare ognuno dietro uno schermo a casa propria. Quindi innanzitutto grazie per esservi qua numerosi e per starci seguendo e per star dando inizio insieme a noi a questi momenti che ci porteranno insieme nel successivo mese e mezzo. E anche da parte mia un cordialissimo benvenuto. Come diceva giustamente Maria Borghesi, questa sera avremmo dovuto essere nella meravigliosa cornice del Museo Nazionale del Cinema di Torino anche perché trasmetteremo il convegno da Torino, ma Torino tra le tante cose quest'anno è anche la città del cinema, quindi ci piaceva questo legame. Questa sera è il 45esimo anniversario della scomparsa di Pierpaolo Pasolini, un autore di grande spessore sia come poeta sia come cineasta e siccome uno degli scopi di JSBach.it ma anche del nostro convegno è proprio quello di raccontare lo sguardo dell'Italia verso Bach, questa sera è uno sguardo che passa attraverso la macchina da presa. Come vedremo anche durante il convegno, non è unico il caso di Pierpaolo Pasolini. Ci sarà infatti una sessione tematica organizzata dalla Fondazione Levi di Venezia che si concentrerà proprio sull'uso e l'interpretazione che alcuni importanti registi italiani hanno fatto della musica di Joan Sebastian Bach. Sicuramente per quanto riguarda il Vangelo secondo Matteo di Pasolini si tratta di un capolavoro della cinematografia ma nel quale la musica gioca un ruolo molto importante. Tutti coloro che amano il cinema e amano Bach durante il convegno quindi sono invitati a questa sessione come anche a non perdersi l'intervento di Francesco Leprino, un altro regista cinematografico che ha realizzato un lungometraggio dedicato all'arte della fuga di Bach. Lungometraggio che tra l'altro verrà reso disponibile in forma gratuita ai partecipanti al congresso. Quindi sono due appuntamenti che vi invitiamo a segnare in agenda. Adesso ripasso la parola a Maria che vi introdurrà il nostro relatore di questa sera. Sì, sono felice di introdurre a tutti voi il nostro relatore che è Paolo Vittorelli. Paolo Vittorelli è dottore di ricerca e musicologia e ha conseguito il titolo presso l'Alma Mater Studiorum della Università degli Studi di Bologna con una dissertazione sulla pratica musica di Franchino Gaffurio che è stata pubblicata nel 2017 da Sismel, le edizioni del Gaffurio. Inoltre ha collaborato con la Fondazione Cini e con la Fondazione Levi di Venezia e ha pubblicato sul dizionario biografico degli italiani, della Treccani, sulla rivista Fuglio Musica Online, proprio un articolo tra l'altro sul Vangelo secondo Matteo di Pasolini, poi sul breve lessico di musica a cura di Fabrizio della Seta e in operisti pugliesi a cura di Lorenzo Mattei. Inoltre è stato autore di alcuni programmi di sala per il Teatro Comunale di Bologna e ha partecipato alla serie di conferenze e ricreazioni organizzate dal Museo e Biblioteca Internazionale della Musica di Bologna. E dunque lascio la parola adesso a Paolo Vittorelli. Io ringrazio innanzitutto Chiara Bertoglio e Maria Borghesi che mi hanno presentato in un modo talmente gentile e lusinghiero da farmi sembrare una persona importante. Inizio subito dicendo che il film Il Vangelo secondo Matteo fu un evento assolutamente imprevedibile anche per il suo stesso autore. Tra medio e lungometraggi questo è il settimo film di Pasolini in tre anni. La sua genesi fu però completamente differente rispetto a tutti gli altri film. E le cose andarono in questo modo. Un'associazione di Assisi, che si chiama Procivitate Cristiana, che per statuto proponeva l'evangelizzazione anche a quei componenti del mondo della cultura dichiaratamente atei, agnostici o non praticanti, offrendosi dialogo con spirito di ecumenismo, teneva ogni anno un dibattito sul cinema e per il 1962 uno dei film sul quale si proponeva la discussione era proprio a Cattone. Invitato al dibattito che accompagnava la proiezione, previsto per il 4 ottobre del 62, era l'autore. Proprio per quel pomeriggio però si annunciò, più o meno inaspettata, la visita del Papa Buono, Giovanni XXIII, e a tale notizia subito la folla riempì le strade di Assisi. Pasolini preferì passare il pomeriggio nella camera offertagli dall'associazione Umbra, leggendo il solo testo disponibile nel comodino di ciascuna stanza, ovvero il Vangelo. Pasolini iniziò a leggere per intero e senza interruzione, come scrisse lui, il Vangelo secondo Matteo, che nelle edizioni del Nuovo Testamento è posto per primo, e sentì immediatamente, cito, un trauma, un impulso, che in quel momento era assolutamente oscuro, era una forma di esaltazione, era quella che Berenson, cioè il critico Bernard Berenson, chiama l'aumento di vitalità che dà la lettura di un grande testo, la visione di un grande quadro. Questa improvvisa illuminazione irrazionale, e questo aggettivo irrazionale in Pasolini coincide con religioso, molte volte, si concretizzò nel bisogno di realizzare un film basato su quel testo. Ritornato a Roma, si impegnò nella stesura di una prima versione della sceneggiatura. Il 30 aprile del 63, quasi sette mesi dopo, ne terminò la redazione e volle che fosse vista da Don Andrea Carraro, un padre dell'Associazione di Assisi. Le osservazioni di padre Carraro sullo script furono generalmente seguite da Pasolini, che modificò, non moltissimo, ma un po' sì, la sua sceneggiatura con sostanziale fiducia. È importante ricordare che il testo del film, le battute che si scambiano gli attori, sono quelle del Vangelo secondo Matteo, né più né meno. Perché Pasolini pensava che ogni cosa aggiunta fosse assolutamente di troppo e assolutamente fuori luogo. A questo punto Pasolini iniziò a parlare del suo progetto con il produttore Alfredo Bini, ma i collaboratori del produttore, specialmente quelli finanziari, espressero un dubbio. Il precedente medio-metraggio La ricotta, che rappresentava difficoltà e mania di un regista nel realizzare un film sulla passione, fu sequestrato con l'accuso al suo autore di vilipendere alla regione dello Stato. Non si correrà forse il rischio che finisca allo stesso modo anche questa volta? Ma Pasolini, in seguito anche ad assicurazioni epistolari, fu però capace di sciogliere le titubanze di partners finanziari della Arco Film e durante la lavorazione del Vangelo, nel maggio 64, fu anche assolto in appello dall'anzidetta accusa. Il film è dedicato alla cara, lieta, familiare memoria di Giovanni XXIII. Pasolini diceva di lui, Papa Giovanni XXIII obiettivamente rivoluzionò la situazione. Se Pio XII fosse vissuto altri tre o quattro anni, non sarei mai stato in grado di fare il Vangelo. È stato il primo Papa che abbia detto che il marxismo non è un diavolo, non è una bestia nera. E stava anche un po' finendo il clima del macartismo. Scritta e depositata la sceneggiatura definitiva, si trattò di scegliere le persone e i luoghi. Volendo evitare qualsiasi ricostruzione fantastica e soprattutto qualsiasi espressione retorica, Pasolini tentò di realizzare il film nei luoghi nominati dall'Evangelista e di far interpretare gli antichi abitanti della Galilea alle popolazioni che abitano oggi, nel 62-64, le regioni in cui Cristo stesso aveva vissuto. Nel processo creativo realizzò anche un cortometraggio intitolato Sopralluoghi in Palestina, che documenta le sue ricerche e le sue osservazioni in Terra Santa. E vi compare anche Don Andrea Carraro. Con suo grande dispiacere, tuttavia, notò che quelle degli attuali ebrei e palestinesi sono facce in cui non è passata assolutamente la predicazione di Cristo. Quindi è un po' l'ombrosiano in questa espressione, in questa idea. Occorrevano dunque delle persone che mostrassero, fin dalla prima impressione, di essersi convertiti al messaggio di Gesù. E fu in Italia che le ritrovò. I personaggi del Vangelo che appartengono al popolo saranno interpretati da persone che provengono del sottoproletariato romano o meridionale. Per i discepoli alfabetizzati, come dovevano essere gli evangelisti, richiese la collaborazione di amici intellettuali, tranne in un caso quello di Natalia Ginzburg, che fu l'interprete di Maria di Betaglia. E per i farisei fu inevitabile il ricorso ad esponenti della borghesia. Chi mancava era il protagonista. Pasolini pensò di cercare fra i poeti, dapprima. Gesù avrebbe potuto essere impersonato da Ebtuschenko, Kerouac, Ginzburg o Gotisola. Nonostante abbia visto un gran numero di possibili candidati, Pasolini non riesce a decidersi. In realtà, credo, con Franco Fortini, che in una lettera a Pasolini scrisse «Quel Gesù Pierpaolo», dopo aver visto il film, credo che lui stesso avrebbe voluto impersonare Gesù. E forse per questo non trovava mai l'attore giusto. E forse questa semi-identificazione con il Nazareno, una delle ragioni che tanto presero il nostro regista scrittore mentre leggeva Matteo. Spia di questo desiderio inconscio fu far interpretare il personaggio di Maria Matura da sua madre, dalla sua propria madre, Susanna. La sensazione che Pasolini si identificasse con Gesù ottiene un ulteriore sostegno da un'intervista a Enrique Irazocchi, l'attore che alla fine fu scelto come protagonista, che, intervistato da Marco Cicala per il venerdì di Repubblica, nel numero del 30 agosto del 13, alla domanda «Si sentiva Pasolini, Gesù Cristo?» risponde «Si sentiva tutto. Voleva essere Cristo, la croce, i sassi di Matera, Mamma Roma». E si può forse dire che non Pasolini scelse il suo attore, bensì viceversa. Irazocchi era uno studente spagnolo che stava contattando intellettuali per organizzare un'azione di protesta antifranchista e si recuò a casa dello scrittore e regista nel quartiere Eur di Roma. Pasolini lo scelse perché il suo volto gli ricordava certi cristi di El Greco o dell'espressionista Georges Rouault, eppure per il suo spirito di rivoluzionario. «La figura di Cristo, ha detto Pasolini, dovrebbe avere la stessa violenza di una resistenza, qualcosa che contraddica radicalmente la vita come si sta configurando all'uomo moderno. Come accade per gli attori, così accade anche per i luoghi». Pasolini scelse locations totalmente italiane, ed in particolare dell'Italia del Sud. Matera, ad esempio, ebbe il compito di recitare la parte di Gerusalemme. Una volta trovati gli elementi essenziali del film, della colonna sonora, ovvero di parte di essa, parlerò in seguito, Pasolini pensò alla tecnica da adottare per la realizzazione delle riprese. Credete di sapere già con quale stile realizzare le riprese, e che questo potesse essere il medesimo usato per realizzare a cartone. Se lì aveva usato una tecnica a macchina fissa, cosa che porta come risultato ad un'immagine ferma e sacrale, che il regista definì romanica, è ovvio, credo abbia pensato, che questo stile da facciata di cattedrale sia la scelta stilistica ottima per una narrazione di argomento sacro. Però, fatte le prime riprese, Pierpaolo non fu soddisfatto. Il risultato si dimostrava inautentico, era una pura enfasi. Occorre cambiare tutto. La tecnica che sceglierà sarà quindi la non tecnica del pastiche, del magma totale, quando non quella del risultato casuale. Ecco dunque le riprese da servizio giornalistico, da documentario, ovvero da operatore del giro d'Italia, l'ha descritto così. Quelle con la macchina da presa semplicemente posta sulla spalla, nel processo di Cristo per esempio, o ancora quelle in cui è visibile il cambio repentino degli obiettivi. Questo modo di procedere fece sì che molti metri di pellicola siano stati rifiutati dal regista, sia quelli con la tecnica sacrale, di cui sopravvive solo la scena dell'arresto di Cristo, sia quelli con tecnica multiforme. Questo polistilismo dipenderà certo dalla crisi delle prime scene retoriche e da una generale tendenza dell'autore per la creazione polistilistica, anche in campo letterario. Ma io credo dipenda pure dal testo che Pasolini andò a rappresentare. Il Vangelo infatti esso stesso, molte cose tutte insieme, ed è verosimilmente anche per questo che Pasolini lo sentì tanto vicino al suo mondo creativo. È biografia, è testo didattico, dimostrazione delle verità delle antiche profezie, testimonianza, raccolta di detti ed esempio, ed è pertanto inevitabile che la manifesta varietà di una scrittura come quella di Matteo si realizzi filmicamente per mezzo di un misto di stili. Altra ragione del magma stilistico consiste nel fatto che nel film si riuniscono due punti di vista simultanei, quello di un intellettuale marxista e quello di duemila anni di cristianesimo. Come si spiega che un ateo abbia scelto proprio il testo evangelico per un film? Per provare a rispondere lascio parlare l'autore e vi propongo l'ascolto di una serie di citazioni che ho tratto da saggi sulla politica e la società nei meridiani mondatori. Pasolini dice, sono un marxista che sceglie soggetti religiosi. Questa è bella. Esiste adesso anche un monopolio sulla religione? Ecco la conclusione di 40 anni di orrenda propaganda e di maccartismo. Molti degli uomini più profondamente religiosi di questo secolo sono comunisti. Si intende che quando dico religioso non intendo dire credente in una religione confessionale. Anche i fenomeni bit, hippies, sono fenomeni di carattere religioso. E poi dice ancora, la chiesa potrebbe essere la guida grandiosa ma non autoritaria di tutti coloro che rifiutano il nuovo potere consumistico che è completamente irreligioso. Ancora Pasolini, per concludere vorrei dire che il contrario della religione non è il comunismo, che benché abbia preso dalla tradizione borghese lo spirito laico e positivistico, è in fondo molto religioso. Ma il contrario della religione è il capitalismo, spietato, crudele, cinico, puramente materialistico, causa di sfruttamento dell'uomo sul duomo, culla del culto del potere, covorrendo del razzismo. E viene da chiedersi cosa direbbe se fosse vivo oggi e potesse sentire Papa Francesco. Scherzi a parte, credo che Pasolini abbia scelto di realizzare un film sul Vangelo perché la religione, se vogliamo lo spirito religioso, intesa come la intendeva lui, può essere veramente un'efficace forza contraria al nuovo mondo ad una dimensione, intenta soltanto a produrre, a consumare, inquinare e ricominciare il perverso ciclo all'infinito. Quanto ai duemila anni di cristianesimo, Pasolini li espresse tenendo presenti i pittori classici della storia dell'arte italiana, Piero della Francesca. I fotogrammi iniziali con Maria incinta sono ispirati alla Madonna del parto, i costumi dei farisei o dei soldati sono ispirati agli affreschi della Basilica di San Francesco di Arezzo. E quindi Filippo Lippi o Botticelli, che è ispirato alla danza di Salomè, così disse lui, e poi Masaccio, Duccio, un seicento non meglio individuato, che forse si intravede nelle scene dell'adorazione dei magi, con qualche digressione nell'espressionismo. Non ci sono, come nella ricotta, delle ricostruzioni esatte di celebri dipinti. Ci sono degli spunti che poi Pasolini ha modificato come più gli piaceva o come era opportuno ai fini del film. Di fronte a questa voluta congerie di stili, il film ha unità stilistica? O è forse un minestrone in cui si trova di tutto un po'. E il suo stesso autore non sapeva rispondere a questa domanda. Chi vi parla di tiene evidente che quello che dà unità al film siano la figura di Cristo, che costituisce il perno su cui ruota la voluta varietà di linguaggi, e le composizioni musicali, le quali, pur essendo senz'altro numerose ed eterogenee, vi compaiono in momenti diversi del film, creando delle connessioni emozionali tra le sequenze filmiche che sottolineano. Le riprese si svolsero dal 24 aprile al fine luglio del 64. Il film fu presentato alla ventiquattresima mostra del cinema di Venezia il 4 settembre del 64, in un clima di tremenda confusione e contestazioni da non credersi. Di Vente Pasolini il film ricevete numerosi premi, due dei quali rifiutati. Dei film fatti fino al 64 fu quello che incassò di più al botteghino. E dico qualche parola sulla colonna Sonora Bacchiano. Visto che l'occasione per introdurre il film mi è stata data dall'associazione jsbach.it, mi è perso un dovere, e un dovere molto piacevole, far notare allo spettatore in quali occasioni, e nel limite delle mie possibilità anche perché, Pasolini abbia scelto per questo film musica di Johann Sebastian Bach, e quali queste siano. Partirei dalle occasioni in cui scelse brani dalla passione secondo Matteo. Vi faccio subito la battuta che commentare le immagini del Vangelo secondo Matteo, con musica della passione secondo Matteo, è quasi un far piovere sul bagnato, così mi tolgo il pensiero. Per Pasolini, Bach è sempre stato un autore assolutamente amato, oltre ogni dire. È difficile stabilire come e dove lo abbia scoperto. Una prima testimonianza di un interesse per la musica del cantor risale del 1944, quando conobbe la violinista Pina Kahls, provò a ricominciare a prendere lezioni di violino e scrisse uno studio, rimasto incompiuto, sulle sonate e partite per violino solo di Bach. Una citazione può far capire cosa provasse per questo autore. Nel gennaio del 62, in un incontro con gli allievi della scuola sperimentale di cinema, il regista spiegò, quando pensavo genericamente di fare un film, pensavo che non avrei potuto commentarlo altrimenti che con la musica di Bach, un po' perché è l'autore che amo di più, e un po' perché per me la musica di Bach è la musica in sé, la musica in assoluta. La biografia di Enzo Siciliano, che è anche uno degli attori, ci informa che nei mesi in cui si dedicò alla sceneggiatura, Pasolini avesse ricevuto consigli per la musica da Elsa Morante, che mise a disposizione del poeta la sua raccolta discografica. Prima di esplorare la discoteca di Casa Morante, Pasolini pensò il suo vangelo con musica molto meno diversificata rispetto al risultato finale. Ne è testimonianza la prima versione della sceneggiatura, pubblicata da Siti e Zabagli nei Meridiani Mondadori. Nella prima versione, e mi limito soltanto a Bach, dovevano esserci una serie di motivi guida, definiti motivo musica altissima di Bach, musica profetica di Bach o motivo profetico di Bach, canto di angeli, musica altissima di Bach. Motivo della morte di Bach, suono di tromba, motivo di Bach. E questo si trova nella prima versione, scritta per se stessi. È importante far presente a chi ancora mi segue che le interpretazioni del significato delle musiche bacchiane che udrà sono una congettura, e spero non del tutto priva di fondamento, di chi vi parla. Sono un dantesco, io credo che i credette. Ma se si avessero dubbi sul fatto che Pasolini abbia creduto alla musica, capace di comunicare emozioni ben precise o, se vogliamo, di suscitare nell'animo diversi affetti, per parlare come nel periodo di vita di Bach, è invitato a rileggere la sceneggiatura del film pubblicata nei Meridiani Mondadori. Leggerebbe espressioni come quelle già citate, o altre quali musica colma di sacra allegrezza. Oppure può anche riferirsi alla musica nel film, databile al 72. Questo è uno scritto molto corto, e si trova nel reto di copertina di un disco di Ennio Morricone, in cui Pasolini scrive che la musica è una manifestazione comunicativa, dotata del potere, e qui cito, di cristallizzazione di un sentimento e sentimentalizzazione di un concetto. Spero dunque che alla luce di quanto si ritrova negli scritti pasoliniani sull'argomento musica, le mie ipotesi siano verosimili. Il primo estratto della passione bacchiana che sentiamo viene dal coro finale Wir setzen uns, lo stesso che aveva già messo in accattone, e compare nei titoli di testa, dopo la missa luba africana o pseudo-africana. Ancora lo riudiamo quando la sacra famiglia si prepara a partire verso l'Egitto e al momento dell'arresto di Cristo nell'orto degli olivi. Per questo brano abbiamo un'interpretazione d'autore. Con il suo modo minore, Pasolini lo ha chiamato, già quando lo ha messo in accattone, il motivo della morte più o meno redenta. E deve essere questo il motivo della morte di Bach, della prima versione della sceneggiatura. Il secondo estratto proviene da un interludio strumentale, tratto sempre dal modesimo movimento corale, e lo si ascolta quando i farisei riportano ad Erode I la profezia di Isaia, Betlemme benché piccola, darà al mondo un re. Se si ascolta attentamente, è il medesimo motivo del coro iniziale, ma in modo maggiore, anche se poi modula al minore. E si può pensare abbia significato di motivo della speranza o di un certo moto di speranza. Poi ben sei sono le occasioni in cui Pasolini ha scelto di farci sentire l'introduzione con violino solista dell'aria Erbar Medif, il terzo estratto della Matheus Passion. Tre di queste sottolineano delle importanti parole del maestro, ovvero non vi affannate per la vostra vita, per quello che mangerete e che berrete. Ed anche venite a me tutti voi che siete stanchi ed affamati, e la celeberrima è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, dove viene ripetuta per due volte. Ugualmente due volte la udiamo nel momento in cui Cristo, nell'orso di Gezzemani, predice che Pietro lo rinnegherà, ed ancora, ma una volta soltanto, al momento del sonno degli apostoli e del conseguente rimprovero da parte del maestro. E ancora l'ascoltiamo naturalmente per accompagnare il rinnegamento di Pietro. Appare avere il compito di sottolineare i momenti sublimi e un avvertimento allo spettatore, come se Pasolini dicesse sono questi i momenti più alti del Vangelo, esattamente come è alto il registro di linguaggio di Bach. Ancora musica bacchiana si ritrova nell'adagio dal concerto per oboe e violino, che si sente sia quando l'angelo avverte la sacra famiglia che è possibile rientrare in Israele dall'Egitto, sia per il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Dato il suo modo maggiore di una pace ultraterrena, potremmo assegnargli la valenza di tranquillità dell'animo, di preoccupazione passata. Pasolini ricorre ancora a una musica vocale e per l'esattezza alla conclusione dell'agnos dei della messa in sé minore, per commentare la guarigione dello storpio che getta le sue stampelle e le grida osannanti dei bambini a Gesù, dopo che questi ha cacciato i mercanti del tempio. Il significato di questa musica, sempre credo per Pasolini, è evidentemente quello dell'espressione del trionfo, della gloria di Dio. L'adagio del concerto per il violino, BW1042, ha ancora il compito di sottolineare alcune frasi quali «Chi non è con me è contro di me». «Chiunque fa la volontà del padre mio, costui mio fratello, sorella e madre» è il grave momento in cui Cristo si accinge ad entrare in Gerusalemme e anche quello in cui risponde alle provocazioni o domande dei farisei, cui risponde con il celebre «rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare» e poi per commentare la nuova legge «amerai il prossimo tuo come te stesso». Gli affetti evocati mi appaiono qui quelli della gravitas, della situazione importante, dell'accadimento di qualcosa di elevato. Vi è in conclusione un brano nel quale si affiancano a Bach altri due compositori. È il ricercare a sei voci dall'offerta musicale, su tema, forse, del re di Prussia Federico II. Qui lo sentiamo orchestrato da Anton Webern, che lo chiamò Fuga ricercata. È la colonna sonora del momento in cui il demonio tenta Cristo nel deserto e nella quale si assiste ad un'interruzione di un minuto. Per un minuto la musica della fuga ricercata non si sente. È di quello della maledizione del fico che non produce frutto. In questo secondo momento è curioso udire che la musica diminuisce di volume, ma quando Giuda si avvicina a Gesù, il volume aumenta mano a mano che l'iscariota si avvicina al maestro. Forse l'involuto tema cromatico del ricercare ha fatto sì che Pasolini lo abbia associato al tentatore e al fico indifferente alla presenza del Messia. Vorrei anche ricordare che spesso Bach mette in musica testi in cui si cita il demonio o il peccato con cromatismi o modulazioni inaspettate. Ed ora posso anche rivelarvi perché c'è un'interruzione di un minuto. C'è perché nel momento in cui si vede Cristo non deve esserci la musica del diavolo. Almeno credo che sia questa un'interpretazione possibile. Per concludere aggiungo solo un dato meramente statistico. La musica di Bach occupa nella sua interezza il 38% del tempo totale delle musica presenti nel film, ovvero un po' più di un terzo, rendendolo così l'autore più presente di tutta la colonna sonora. Altro non mi resta da dire se non ringraziarvi per la vostra pazienza ed augurarvi una buona visione. Grazie. Anche da parte nostra un grandissimo ringraziamento al dottor Vittorelli per questa bellissima presentazione che ci mostra anche proprio le radici profonde dell'uso della musica di Bach e come Bach ha saputo esprimere questo sentimento religioso insomma in un modo che forse era quasi sconosciuto allo stesso regista. E a proposito di radici mi permetto di chiusare con un brevissimo estratto da un articolo che è apparso oggi sull'osservatore romano e che ricorda appunto Pierpaolo Pasolini insieme con due grandi attori che sono scomparsi in questi giorni, ossia Gigi Proietti e Sean Connery. L'osservatore romano dice questa è stata la forza scomoda e scandalosa di Pasolini, poeta visionario a un tempo profetico e popolare, così come sono stati popolari i due grandi attori scomparsi nelle ultime ore. Con il loro fare sornione e il sorriso accantivante entrambi piacevano al grande pubblico perché avevano una consistenza, un spessore, in una parola una storia delle radici forti dalle quali provenivano e grazie alle quali potevano parlare a tutti i popoli perché questa è l'arte, il punto di congiunzione tra il particolare e l'universale. Credo che parlare di Bach come punto di congiunzione tra particolare e universale sia assolutamente molto adatto. Certo, quindi vi ringraziamo ancora una volta, ringraziamo il dottor Vittorelli per questa bella presentazione che ci ha fatto e per fare… come? Grazie a voi. Grazie davvero per aver ritratteggiato un po' di punti e a questo punto se fossimo stati in presenza ci sarebbe stata la bellezza del guardare tutti insieme il film di Pasolini nella bellissima cornice del Museo d'Azione del Cinema, la Mola Antonelliana di Torino. Purtroppo invece ci troviamo ognuno a casa propria, tutti a distanza, ma ci piace pensare che invece tutti continueremo questa serata insieme e quindi ci teniamo a lasciarvi tra i commenti delle proiezioni un link al video completo del film di Pasolini del Vangelo secondo Matteo che è disponibile interamente su YouTube. Non ci resta da parte nostra che augurarvi una buona serata, speriamo una buona visione insieme a tutti noi e vi diamo il prossimo nostro appuntamento al 20 novembre in cui abbiamo un caffè con J.S. Bach, la nostra rassegna di podcast, video podcast ideata in tempi di pandemia e poi che si vorrebbe proseguire anche oltre la pandemia quando la pandemia prima o poi finirà e avremo questo caffè con J.S. Bach con uno dei più grandi nomi della musicologia Bachiana italiana, quello di Alberto Basso e poi assolutamente vi aspettiamo tutti quanti e numerosi per la cerimonia di apertura che si terrà il 22 di novembre alle 21 e da lì inizieranno proprio le giostre del convegno. Quindi grazie ancora al dottor Paolo Vittorelli per essere stato con noi, a Chiara Bertoglio che è stata qui con me a presentarvi la serata e soprattutto grazie a tutti voi che ci seguite sempre. Grazie a te Maria Borghese e buona serata.